ciao a tutti entro tre mesi incontrerò l'uomo giusto chi fosse interessata davvero nella risposta a questa domanda segue il video nel frattempo iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al nuovo canale felicità benessere di quei ti posto i link in descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carta a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 che la carta 4 ora concentrati concentrati su sull'amore e dopo di che sceglie la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 per chi ha scelto la carta 1 incontrerai un uomo ma non sarà quello giusto perché è molto superficiale po peter pan chi ha scelto la carta 2 si potrei trovare e raggiungere il tuo obiettivo entro i prossimi tre mesi che ha scelto la carta 3 diciamo che ti verrà fatta giustizia quello che speri di ottenere quello che sarei può tenere lo terrai che ha scelto la carta 4 incontrerai un uomo molto stabile e solido e che potrebbe essere l'uomo per te se dimostrerai una connessione anche fisica molto forte per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale iscriviti al nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link descrizione ciao a tutti